Siamo con Gianluca Naso, ciao Gianluca, non è la prima volta che vieni qui al torneo di Genova, parlaci un po' di questo torneo, come ti sembra? Questo è il torneo della mia prima finale a livello Challenger, 2007, e anche 2008 sono la situazione finale qui, ma si sta benissimo, poi è la città dove gioco la Serie A, per il Parc Genova, mi trovo benissimo, la Liguria è la mia seconda casa perché ci sono cresciuto dai 16 a 20 anni, la mia ragazza è genovese, quindi ho dei legami particolari, poi il torneo è stupendo, organizzato benissimo, c'è un campo centrale da torneo ATP 250, quindi ci sono tutte le caratteristiche per poter giocare bene. Hai visto il sorteggio, prossimo incontro difficile, cosa ne pensi? Ma è duro, è duro, perché comunque Montagnese sulla terra gioca molto bene, poi l'anno scorso qui è venuto lui il torneo, io ho perso con lui al secondo turno, 6-4 al terzo, però se gioco tatticamente nella giusta maniera posso metterlo in difficoltà, poi se nella lotta può sempre succedere di tutto. Grazie Gianluca. Grazie. Ciao.